Simone Valle, qui a Campobasso in Via La Banca c'hai quest'officina, ma soprattutto questa sala sperimentazione tu hai avuto un'esperienza in Ferrari, quindi è chiaro che hai parecchia competenza in questo genere di situazioni. Accanto abbiamo realizzato un'officina meccanica dove si possono appunto apportare queste modifiche oppure lavorare su macchine ordinarie e qui abbiamo costruito un'aula didattica e una sala prova di sperimentazione dove qui possiamo provare e testare la potenza dei veicoli, la durata delle batterie, le emissioni, insomma possiamo fare tanti test e qui è anche un'aula didattica che faremo dei corsi di formazione per i giovani, insomma per le persone interessate alla meccatronica, all'elettronica e in questa sede faremo dei corsi e daremo anche delle certificazioni validi, quindi faremo dei corsi a tutti gli effetti validi per trovare lavoro, insomma per istruirsi. Certamente, senti la sperimentazione evidentemente è un check up della macchina. Sì, comunque diciamo la sperimentazione ci serve per migliorare le prestazioni, i consumi e tante altre cose che oggi diciamo cerchiamo, tutte le fabbriche stanno cercando di ottenere, bassi consumi, meno emissioni, quindi qui diciamo cercheremo di lottare anche per questo. Certamente, invece per la didattica evidentemente, come dicevi tu, anche mettere a disposizione la tua esperienza, questa esperienza che hai maturato con la casa di Maranello, anche per chi comunque, tuoi colleghi, gente che comunque vuole acquisire delle conoscenze specifiche. Certo, sì sì, l'esperienza nella sperimentazione Ferrari, lì lavoravo in Formula 1 e GT, è stata molto molto essenziale, ho imparato tantissimo. Certo, questo nasce anche da quell'esperienza, perché lui ha acquisito molte nozioni che diciamo è più difficile trovare nelle officine tradizionali, essendo lì in sperimentazione. Ora vorrei comunque, grazie a queste esperienze, divulgare e fare dei corsi di formazione, grazie anche a queste esperienze.